Alessia Fabiani è delusa dalla giustizia. Tra le lacrime rilascia un'intervista al Corriere della Sera dopo l'assoluzione dell'ex compagno Fabrizio Cherubini, da cui ha avuto i figli gemelli Kim e Kira, 11 anni, denunciato dalla 47enne per lesioni e maltrattamenti, è stato assolto in primo grado. La giornalista del Quotidiano, Giovanna Cavalli, le sottolinea. I giudici non le hanno creduto. Alessia Amara replica. Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura. Per essere presa sul serio? Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato. Per me è stata una doccia gelata. Non me lo aspettavo. È andato tutto al contrario. C'erano le foto. I certificati. I referti. La prognosi di 20 giorni? Non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? È certo. C'era un evento. Mi hanno truccata. Mi sento beffata. Sono disperata. Io ho detto solo la verità. La showgirl ora è indagata per falsa testimonianza. Però non ho ricevuto nessun avviso. Al momento non c'è nulla. Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo. Per una subrette la compassione non vale? L'imputato era lui. Ora sono diventata io? Sottolinea la Fabiani. Quando le si fa notare che, a un certo punto, lei avrebbe ritirato la querela contro l'ex, sottolinea, mi era stato proposto, però non l'ho fatto, ho disconosciuto la firma. Ero confusa. Non ci ho capito niente. Perché ero una donna maltrattata. Perché ho avuto paura. Perché non volevo distruggere la famiglia. Perché io di Fabrizio sono stata molto innamorata. È stata una storia bellissima. Almeno all'inizio. Prima che lui diventasse aggressivo. E sono nati Kim e Kira. I miei gemelli. Che oggi hanno undici anni. La cosa più preziosa per me. Ho sacrificato tutto per loro. Anche il lavoro. Alessia precisa che avrebbe potuto accettare di raccontare tutta la sua storia in tv tante volte. Ma non l'ha fatto proprio per i figli. Per questo ho anche rinunciato a molte offerte di lavoro. A programmi in tv. A reality. Non me la sono sentita di lasciarli soli. Ormai da otto anni lavoro soltanto in teatro. Adesso quell'uomo ha sporcato la mia immagine. Ha distrutto anche quello che avevo costruito con tanta fatica. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Grazie a tutti. Grazie a tutti.